Il club internazionale del cinema assegna a Roma i premi David di Donatello, tra gli invitati Giovanna Ralli, Elsa Martinelli e il regista Germi. Immancabile Mirko fa strada alla Lolo Brigida, intenuta da regina della festa. Lucia Avanti ha già preso posto, Patrizia Dallarovere e Cifariello, con sottosegretario Brusasca, l'ambasciatore di Francia. Gemini proclama i vincitori. Questi David sono per loro. Uno è per il produttore Niccolò Teodoli, un altro per la Rizzoli Film. Il regista Franciolini riceve il David per il film Racconti Romani. La Lolo Brigida se l'è conquistato con la donna più bella del mondo. Dubbi non ce ne possono essere. Al Quirinale il Presidente della Repubblica riceve produttori e artisti. Gronchi si congratula con Angelo Rizzoli per grandi manovre. E con Goffredo Lombardo per pane e amore e. La Lolo Brigida ringrazia il Presidente. Al ricordo della manifestazione internazionale anche il Capo dello Stato riceve un piccolo David. Questa popolarità cinematografica Donatello non se l'aspettava dal Vira.